Il mio figlio è il mio figlio Non mi riferisco Porca di me Va certissimo Fa�� Merco Non più Passai Perciò e Pres negócio atures 5000 Ok, questo è... Oh, oh, oh! E' un pocio leggo! go down to the snow surface search the smallest value send activated no Siamo in una nuova igrazione. Abbiamo anche un paio di solito migliori. Covid buffet. Siedi qui, qui troppo. Grazie a tutti.